Un autobus, c'è una chiesa vecchia, vecchia, non so di che anno, no? È sempre chiusa, la vediamo ogni volta. Qua c'è un bar, un bar di anziani. Come si chiamano? Sì. Un circolo. Che buono, mi mangierai tutti. Ma io ho un sacco di anziani, sei sempre buono. Eh, ma perché ero più in carne, ero più grosso. Ma venivo a fare spesso a fare video. Non so se si vede il forte, beh, è distante. Si può giumare? Ma sto facendo il video. Si, si, si può giumare. Allora giumiamo. Eccolo. A me lo fa, poi. Guarda. Qui siamo via Pierino Negrotto a Genova. E' un paesetto, discreto. fuori per la bocca a fare a renew. E' un po' vero. Va bene. A dopo. Ahem. Va bene. A dopo.